È ora di ragguagliarvi sulla situazione del depuratore di Grisignano. Non posso dirvi più di tanto perché le operazioni sono in pieno corso e divulgare certe informazioni danneggerebbe la nostra causa. Vi posso anticipare che dei risultati sono già stati ottenuti. Come sapete noi l'abbiamo giocata più sulla sicurezza idraulica che su altri aspetti. In poche parole i primi risultati sono già arrivati. Il consorzio di bonifica che gestisce il tesinella fino a un certo punto ha già detto che lo scarico di bypass del depuratore dovrà passare sopra l'argine e non sotto e che comunque si riserva di fermare lo scarico se lo ritiene necessario. Nel progetto originale era previsto che avrebbe potuto scaricare questo depuratore in qualsiasi condizione e potete immaginare le conseguenze. Detto ciò pare che abbiamo ottenuto anche altri risultati ma si tratta appunto di informazione riservata e oltretutto rendendola pubblica in questo momento danneggeremmo la nostra causa. Per quanto riguarda il futuro siamo fiduciosi di ottenere altri risultati per inciso anche se la costruzione procede non abbiamo assolutamente sospeso le operazioni in quella direzione ma si tratta di informazioni che non posso assolutamente divulgare in questo momento. In caso le cose non andassero come speriamo procederemo a tutto vapore sempre secondo legge ovviamente contro il depuratore e non ci faremo problemi a quel punto a divulgare informazioni estremamente interessanti che in questo momento come sapete non possiamo divulgare. E allora pensiamo proprio che sarete estremamente interessati a conoscere questa informazione e non solo le persone di Veggiano.